NEL CONTINENTE NERO 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 NEL CONTINENTE NEL CONTINENTE Già finiti, con gli amori già finiti, e questo qui è Il Mondo, è di Jimmy Fontana, ma va beh però, la breve camera mi dimentica, mi ritorno in mente, mi ritorno in mente, e di chi è? Battista, ma come si fa? Vai, vai, sta dietro. L'abbiamo già fatta eh? Sì, l'abbiamo già fatta, fatti bravo questa qui. E cos'è? Ragazzo triste. Mi ha comunque suggerito la insana, no perché io non voglio vincere senza. Eh, questa qui è Rita Pavone, ma come hai intitolato, non mi ricordo più. Alla mia età. Anche questo è il lato C, ce ne aveva due lati, poi questo è il lato C della mia gemella, ma ti sono dalle canzoni come si chiama. Non c'è nessuno, eh, questa qui ancora, Rita Pavone. Vabbè, troppo facile. Troppo facile. Sì. Quanto è qui nella Montepremia? Un abbonamento da me. Eh, eh, Sergio Andrigo. Sergio Andrigo. Sì. 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 Ti hai già indovinato prima. Eh? Sì. 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 Come si è io? Lo messi… Spiti con Giale! Ritorno a casa, spiti con Giale! Olami, yala! A San Tropez, Peppino de Capri! A San Tropez… Peppino de Capri. Peppino. Se fallo il tuo is... Scusi, troppo tardi, rinuncio a molte premi, quante era molto presto, vorrei capire quanto sono i molte premi, piccole cose, va bene, guardate che l'organizzazione vi lascia adesso, è seduto in quel caffè il 29 settembre, tipo 84, no, l'isola gli occhi, è ancora male in tessuto, senza luce, mi fa morire il paolo, dice l'angelo, assolutamente, ha suggerito però, rinuncio a questa cosa, ma quanto è il totale, scusate, perché qui non ti premi nemmeno, pugni chiusi,